Guardi che mi hanno portato, Centinaio, qua lavorano contro di lei, mi hanno portato una sua foto davanti, non so bene dove, Montecitorio, una manifestazione con un grande cartello, lei con alcuni suoi colleghi di partito, con su scritto cittadinanza per gli immigrati, svendete il paese per un milione di voti, riusciamo a riprenderla? Certo, me la confermo, è una differenza di opinione rispetto a Collanino e rispetto al Partito Democratico, loro dicono se nasci in Italia ti dobbiamo dare la cittadinanza, noi diciamo al compimento del diciottesimo anno di età chiedi la cittadinanza. Sono due cose, sembrano la stessa cosa, ma non lo sono, non lo sono assolutamente, quindi è una visione totalmente diversa di società. Però il problema grosso sono due, il primo è quello che dicevano i due ragazzi studio, è impensabile che dopo dodici anni, dal compimento dei diciotto, la burocrazia italiana non sia in grado di dare quello che per loro è un diritto. E io considero per loro un diritto il fatto di diventare cittadini italiani se a diciotto anni loro lo chiedono. E quindi questo è un errore dello Stato italiano e alla fine deve essere risolto. Altro problema è la questione della legge che in questo momento è al Senato.